La zia Adele. Franca se n'è andata, ma non se ne deve fare un dramma. Avrà avuto i suoi motivi per partire. In fondo era una nevrotica, questo ricordatelo. Qualunque cosa succeda devi ficcartelo in testa. Vieni. Non sarebbero mai arrivati alla villa. E finiscila. Smettila. Ma non capisci che ormai è finita? Non abbiamo più scampo. E finiscila. Ci hanno scoperti. Non desiderava che si trovasse il cadavere. Ci allontaniamo da Venezia. È come allontanarci da un incubo. Andiamo in cabina? Quando arriviamo a largo. Ora voglio vedere.